Sull'acqua non si specula, un'altra gestione è possibile. Questo è il tema del convegno a clip universitario cavese, dove sono presenti oltre al presidente, avvocato ambientalista e presidente dell'azienda speciale ABC, Acqua Bene Comune di Napoli, Maurizio Montalto, a consiglia salvio, referente regionale del comitato sempre dell'Acqua Bene Comune, Alex Zanotelli, padre con Boniano, sempre in prima linea per quanto riguarda le battaglie degli ultimi, ma mai come in questo caso in prima linea per la battaglia sull'acqua. Come molte persone sanno, molti comuni stanno affidando la gestione dell'acqua ad aziende private o quantomeno a consorsi. La cosa sembra aver scatenato da parte di molti cittadini una presa di coscienza e la rete Lilliput, i Global e tante associazioni tra cui Acqua Bene Comune stanno cercando di capire il perché, ma soprattutto di rendere partecipi le persone, che questo potrebbe essere anche l'inizio di un aumento delle bollette dell'acqua. E Alex Zanotelli ci ha rilasciato questa intervista. Noi dobbiamo cominciare a renderci conto che non è più il petrolio il problema centrale, il problema è l'acqua. Cioè, già il petrolio dovremmo lasciarlo dove è se vogliamo salvarci, altrimenti non ci salveremo più. E quindi non è più, beh non lo sarà anche se andiamo avanti a consumarlo, ne avremo al massimo per 30-40 anni, poi è finita. Senza petrolio possiamo vivere, senza acqua non si può vivere. Chi ne pagherà di più questo? Sempre i più poveri. Cioè, se oggi abbiamo dai 30 ai 50 milioni di persone che muoiono all'anno di fame, domani avremo 100 milioni di persone che moriranno di sete. Perché l'acqua è l'elemento fondamentale per la vita umana. E adesso con il surriscaldamento ci salteranno buona parte delle fonti idriche. Ecco perché le multinazionali vogliono mettere le mani sull'acqua, ecco la privatizzazione. Noi vogliamo impedire questo, vogliamo che l'acqua sia gestita dal pubblico. Non c'è via, altrimenti davvero sarà quello che ci attende, attende soprattutto i più poveri, sarà davvero un disastro. Loro non potranno comprarci le bottiglie di plastica, di acqua minerale. Cioè il pianeta Terra, se andiamo avanti così, non sopporterà più la presenza di Homo Sapiens che purtroppo è diventato Homo Demens.